Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Zeta Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo ultimo mese, il sottoscritto in collaborazione con Alessandro Grassi della Zeta Car Trading di Firenze, che ringrazio infinitamente per la disponibilità, abbiamo messo a punto un prodotto ideale per ogni nuovo forgiatore che è appena arrivato sul crogiolo. O per quei giocatori che cercano un punto di riferimento dal quale far partire la loro avventura affrontando le innumerevoli meraviglie tra le vaste lande del pianeta al centro dell'universo. Con questa rosa di articoli, infatti, nessuno dovrà preoccuparsi più di quale accessorio avrà bisogno per affrontare al meglio ogni partita, dato che una volta acquistato si avranno tutte le armi a disposizione per potersi godere l'esperienza di gioco che Keyforge avrà da offrire. E' con immenso piacere ed orgoglio che vi presentiamo l'Arconte del crogiolo Starter Pack. Andiamo a dargli un'occhiata! Il primo dei quattro articoli fondamentali per ogni nuovo forgiatore sarà sicuramente il mazzo Arconte Deluxe, che fornirà tutto l'occorrente per poter iniziare un match al meglio. Essendo provvisto di tutti i segnalini utili e un mazzo unico pronto per essere giocato, potrete partire alla volta delle cripte senza paura, consci di possedere tutto quello di cui avrete bisogno durante le vostre avventure. Da come avete potuto notare, nel Deluxe ci saranno due prodotti ben distinti. Il primo formato dal deck e l'altro dai vari segnalini. Per scoprire il contenuto completo di questo prodotto vi lascerò il link in descrizione e la scheda apparsa in questo momento dove se ne parlerà in modo più dettagliato. Tornando a noi, cosa potrebbe essere utile ad un giocatore appena arrivato sul crogiolo considerando che, se avranno degli elementi che, giocati così, potrebbero ben presto incorrere in usure varie che ne comprometterebbero l'utilizzo, ed è qui che entrano in campo i prossimi due articoli del pack. Il secondo strumento messo a disposizione per ogni nuovo forgiatore saranno le Ex-Shield Tournament Sleeves della Gamegenic. Molto più resistenti e compatte rispetto alle tipiche logo sleeves che sono state trattate in un precedente video, le Tournament avranno tutto quello che serve per proteggere il vostro mazzo al meglio da qualsiasi agente esterno che ne potrebbe compromettere l'integrità. Anche in fatto di resistenza non saranno affatto male, dato che bisognerà imprimere una bella pressione prima di poterle danneggiare. Essendo state studiate appositamente dalla Gamegenic per le dimensioni delle carte di Keyforge, queste bustine protettive garantiranno una protezione ottimale del vostro unico. Grazie per la visione! Personalmente le ho utilizzate e le utilizzo tuttora per portarmi dietro uno dei mazzi più performanti che ho a mia disposizione e da quando le ho comprate al day one e quindi si sta parlando oramai di quasi due anni personalmente non mi hanno mai fatto pentire dell'acquisto anche quando si mescolerà il mazzo non ci saranno problematiche di nessun genere e non si correrà il rischio di vedere il back delle sleeves andare via dato che non ci saranno doppi strati dorsali ma un solo ed unico corpo che formerà l'intera struttura ora dato che si è visto come mettere in sicurezza il proprio unico spetterà i segnalini trovare un giusto luogo dove albergare e il prossimo articolo non solo soddisferà questa richiesta ma farà molto di più a disposizione di ogni nuovo giocatore infatti ci sarà la presenza del Gemini Deck Box della Game Genic disegnato appositamente per soddisfare le esigenze di ogni forgiatore questo prodotto avrà sulla parte anteriore lo spazio adatto ad ospitare il vostro mazzo e sulla parte posteriore uno scompartimento apposito dove potrete inserire tutti i segnalini che troverete all'interno del Deluxe e la parte posteriore portare con sé il Gemini sarà pratico e rappresenterà il giusto compromesso per avere tutto quello che vi servirà per affrontare un match in un'unica soluzione potrete anche integrare le fazioni del vostro mazzo attraverso gli sticker delle case che troverete al suo interno per dare quel tocco in più di personalizzazione all'intero articolo assieme ai quattro articoli che saranno contenuti all'interno dell'arconte del crogiolo starter pack troverete anche una lettera di accompagnamento che ho scritto personalmente per ringraziarvi della fiducia che avete riposto in questo insieme di prodotti e per svelarvi la prima sorpresa che vi attenderà vorrei sottoscrivere la prima sorpresa perché ce ne sarà anche una seconda infatti si è parlato di quattro articoli ma ne sono stati trattati soltanto tre cosa vi aspetterà una volta aperta la scatola? esse consisteranno nel... le nonnare zisno e se merdo passer pro se che sorpresa potrebbe essere se ve lo rivelassi acquistando il pack potrete scoprirlo da voi e ve lo assicuro non rimarrete delusi Conclusioni l'arconte del crogiolo starter pack sarà venduto ad un prezzo indicativo di 35 euro e al suo interno ci sarà tutto l'occorrente per affrontare un match sarà disponibile al pubblico in due varianti mutazione di massa e o ondata oscura è un prodotto accuratamente studiato per adattarsi unicamente ai nuovi giocatori che sono appena arrivati sul crogiolo tutti i prodotti contenuti nel pack saranno funzionali ed adatti ad ogni tipo di situazione sarà la prima ed unica soluzione ready to go nel mondo Keyforge che permetterà a chiunque la acquisterà di iniziare già da subito a muovere i primi passi sul pianeta al centro dell'universo senza preoccuparsi di dover procurarsi altri accessori che potrebbero tornare utili ad un forgiatore al suo interno ci saranno una lettera che vi nasconderà la prima sorpresa del prodotto mentre la seconda verrà rappresentata dal quarto articolo misterioso che completerà l'assortimento entrambe le sorprese avranno un valore approssimativo di 15 euro ma non finisce qui attraverso l'acquisto del primo starter ne potrete avere un secondo ottenendo entrambi a 31,50 euro cada uno direttamente al momento del checkout nel vostro carrello quindi alla luce di tutto ciò conviene acquistare l'arconte del crogiolo starter pack? la risposta è sì non tanto perché è un prodotto che porta il mio nome ma tanto perché per un principiante della forgia rappresenta una validissima soluzione di partenza per iniziare a giocare mi rivolgo anche ai forgiatori navigati quando parlo dell'arconte del crogiolo starter pack dato che potrebbe essere sicuramente un regalo gradito fatto a quegli amici o conoscenti che vogliono iniziare ma non hanno ancora preso la palla al balzo ebbene questa è l'occasione giusta per poterli introdurre al gioco insegnando loro le basi ed avendo a disposizione un valido alleato per costruire fondamenta solide e forti per crescere i grandi masteri forgiatori del futuro in descrizione vi lascerò il link allo store online della Z car trading che vi porterà sulla pagina dedicata dove potrete acquistarlo o acquistarli signori l'arconte del crogiolo starter pack è arrivato partite assieme ad esso ed impugnate il vostro destino recandovi alla volta delle cripte il sapere immenso in esse contenute vi sta aspettando mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici in più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti per ogni carta infatti ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video